Pensate per esempio il tema della diversità e dell'uguaglianza, intendo siamo tutti diversi, giusto? I disabili sono ancora più diversi, ma sono sempre diversi come me, non diversi da me. Attenzione alle parole, diversi come me, non diverso da me. Io dico, voi siete diversi da me e i più furbi penseranno, fusca si sente, fusca si crede. Io sono diverso come voi, cioè allo stesso livello, va bene, è importante questa connotazione ontologica di senso. Ora, diversità e l'uguaglianza, però noi tendiamo tutti all'uguaglianza. La Costituzione, con la C grande, è una carta speciale, splendida e vuole l'uguaglianza. L'uguaglianza è tra i cittadini attraverso diritti e doveri. Perché certi, cosa fanno i mafiosi, gli olinguenti, eccetera, purtroppo ne abbiamo tanti in giro. Cosa fanno? C'è un concorso, per esempio, ritengono che mio figlio, mia figlia, il mio compagno, la mia amica, il mio amico, non ti preoccupare che vedo io. Come vedi tu? Come vedi tu? Non esiste. Va bene? Perché? Perché ci sono diritti e tu vedi alla parte. Questa è la Costituzione, questa è il concetto di uguaglianza. Diversità e uguaglianza. Abbiamo declinato stasera, rapidamente, anche attraverso questi apporti, e anche attraverso questi apporti, anche attraverso il concetto di uguaglianza.